Buonasera, guardate un attimo qua, ma che voglio questa signora mese che mi ha giocato la Vesuviana? Ma io, io non so che ne mancano una perfezione, io mi vengo a prendere la Vesuviana, a me si mi vengono a prendere con la macchina, io non cammino, ne mancano la Vesuviana sono andata, ma perché dici delle buscine? Ma che sarà mia questa Vesuviana, giovane? No, giovane, dici delle belle verità, non dici delle buscine, io non ho mai preso la Vesuviana, ok signori? Vorrei dire che mi vengono a prendere la Vesuviana, buonasera. Rita De Crescenzo, dopo essersi svegliata, trova un articolo di un giornale di Napoli che parlava di lei. Rita, dopo averlo letto, fa un video in cui smentisce quanto veniva detto e prende anche in giro il giornalista, rispondendo di aver detto una cosa palesemente non vera.